Ciao a tutti, benvenuti a tutti in questo video. Prima di passare all'argomento della triade oscura, la triade oscura seduce. Che cos'è la triade oscura? Perché seduce? Come si manifesta? E perché soprattutto molte donne ci cascano. Prima però iscriviti al mio canale YouTube, ovviamente Massimo Terramasco, quindi vai sul mio canale YouTube, Massimo Terramasco, iscriviti, è completamente gratuito ovviamente. Basta che veni alla home page, tastino iscriviti, ti iscrivi, poi attivi la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. In più c'è anche il tastino abbonati per chi volesse abbonarsi. Ma veniamo al tema, la triade oscura. Cos'è e perché seduce? Allora, la triade oscura sono personalità, diciamo, estremamente negative, che purtroppo hanno questa capacità di sedura, di conquistare. Potremmo dire che è il fascino del male, è il fascino, da un certo punto di vista, del bad boy. Molte donne si dicono, ah, il bravo ragazzo non lo pigliano neanche in considerazione e sembra che vadano a cercarle col lanternino e vanno a innamorarsi del bad boy, del ragazzo problematico, magari appartenente alla triade oscura. Perché il fascino del male, tra virgolette, il fascino dello scuro, seduce. Seduce perché dà emozioni. In più le persone appartenenti alla triade oscura hanno naturali capacità di, diciamo, sedurre. Di fatto hanno una notevole intelligenza sociale, cioè di interagire con le altre persone. Cos'è la triade oscura? La triade oscura è la triade formata da narcisismo, macchiavellismo e psicopatia o sociopatia. Quindi sono persone narcisiste, le persone narcisiste si caratterizzano perché sono comunque completamente prive di empatia. No, un narcisista non ha empatia, cioè non ha empatia reale, ma potrebbe avere molta empatia finta. Infatti il narcisista è camaleontico, sa fingere. E molte donne, anche molti uomini, cascano nelle grinfie del narcisista, soprattutto il narcisista istrionico. Il narcisista istrionico è il seduttore per eccellenza, potremmo dire, no? Il narcisista istrionico è quello che sa, come dire, come conquistare, come sedurre, perché ti fa vivere una favola, no? C'era la canzone di Vasco Rossi, vivere una favola. Il narcisista istrionico ti fa vivere una favola. Però di fatto poi ti toglie tutto quello che ti dà. Il narcisista istrionico sa fare un eccellente love bombing, cioè un bombardamento d'amore. Sa fare anche gaslighting, che vuol dire poi dopo andare a destrutturare la parte della persona, farla passare per pazza. Però seduce. E poi il problema di fondo di molte persone, che veramente non soltanto si innamorano del narcisista, ad esempio, adesso poi parleremo degli altri personaggi della 3D istrionica, non soltanto si innamora del narcisista, ma arriva a fare di più, arriva a, diciamo, a dire il mio narcisista, come faccio a conquistare il narcisista? Io ogni tanto qualcuno sento che scrive, ma come vorrei conquistare il narcisista? Come si conquista il narcisista? No! Il narcisista non si conquista. Cioè, è un grave errore cercare di conquistare un narcisista. È veramente un grave errore. Nel momento in cui tu vai a capire che è un narcisista, nel momento in cui tu vai a capire che anche solo lontanamente, che si tratta di un narcisista, anche solo, diciamo, lontanamente, devi togliertelo dalla, devi togliertelo dalla testa. Devi eliminare completamente il narcisista dalle tue, non devi assolutamente cercare di conquistarlo. Questo è un grave errore. Una persona che, tanti narcisisti si allontanano, ma poi tanto tornano. Questo devi tenerlo presente. Il narcisista si allontana, ma poi di fatto torna. Però, quello che tu devi fare è allontanarti completamente. Anche perché, ripeto, hanno una mancanza di empatia. Poi vedremo come si manifestano. Quindi, in questa triade oscura abbiamo il narcisista. Dall'altra parte abbiamo le persone macchiavelliche. Macchiavelli. Macchiavelli, se vi ricordate, Macchiavelli è l'autore del fine che giustifica il mezzo. Quindi, le persone macchiavelliche, da Macchiavelli, appunto, autore del fine che giustifica il mezzo, il principe di Macchiavelli, che ne faceva di ogni pur di raggiungere il suo obiettivo, utilizza fortemente la manipolazione e lo sfruttamento delle altre persone. Quindi, le persone macchiavelliche cercano di, come dire, di sfruttare e di manipolare le altre persone. Quindi, sono altre tipologie di persone che devono essere completamente eliminate. Devono essere completamente eliminate. Poi, ovviamente, i narcisisti, come le persone macchiavelliche, ma anche gli strionici, sono grandi seduttori, no? Per cui, chiunque si interessa di seduzione, studia come seducono questa tipologia di persone. Perché, di fatto, sono dei seduttori naturali. Ma è l'obiettivo che è diverso. Perché chi seduce, la seduzione è uno strumento e si può utilizzare qualunque strumento per sedurre. Anche le tecniche, tra virgolette, del narcisista, se vogliamo. Ma l'obiettivo del narcisista non è quello di sedurre, quindi di conquistare, di costruire una relazione con una persona. Il narcisista seduce perché vuole manipolare, vuole condizionare e vuole, tra virgolette, soprattutto se si tratta di un narcisista, diciamo, se si tratta di un narcisista perverso, anche di danneggiare. Mentre la seduzione, normalmente, è una seduzione per amore. Quando noi vogliamo sedurre qualcuno è perché siamo già coinvolti, siamo già innamorati di quella persona. Quindi è fondamentale, ovviamente, rendersi conto di questa differenza. Poi la strategia in sé, che utilizza il narcisista nella seduzione, il narcisista estronico, esagera comunque, ad esempio, esagera comunque, ad esempio, nella fase iniziale, nel love bombing. Infatti, questo io suggerisco sempre di diffidare. Questa è una grande indicazione che hai che fare con un narcisista estronico quando, nella fase iniziale, ti tratta da regina. E con questo le donne non se lo mettono nella testa, no? Incontrano un uomo, uh, mi tratta come una regina, uh, mi tratta come una principessa, uh, come sono felice, uh, ho trovato l'uomo della mia vita. Poi, passano, passa un mese e ti dice, uh, uh, inizia a frignare, mi ha portato a letto e se n'è andato, perché era un libertino. Ma anche i libertini, il libertino, ad esempio, non è narcisista. Il libertino è finalizzato al discorso edonistico, no? e ha l'esigenza di conquistare per collezionare, diciamo, ma i fini è praticamente edonistico. Non soltanto edonistico nell'avere, diciamo, una... mettere un'attacca in più, ma anche proprio nel corteggiare, no? Il libertino, il libertino ha questa, ha questa caratteristica, no? Di volere corteggiare e viversi il corteggiamento come fonte di erogazione di emozioni. Questo è molto importante. Ma il libertino non è un narcisista. Però, se tu vuoi, vai alla ricerca di una persona nei secoli fedele come l'arma dei carabinieri. Poi non ti puoi andare a innamorare di un libertino. Come fai ad andarti a innamorare di un libertino? E che ti rendi conto, no? Che un libertino, se ad esempio libertini anche spesso utilizzano la strategia del fare una sorta di love bombing, cioè di dare emozioni all'inizio per conquistare. Perché il libertino è quello che ti fa fare il giro di giostra, no? È quello che ti porta... Mentre invece il narcisista utilizza, dicevamo, fini diversi. Quindi comunque in questa triodoscura abbiamo il narcisista, il machiavellico, che poi è una persona fondamentalmente cinica e che si basa sullo sfruttamento degli altri. Una persona machiavellica potrebbe sedurti o potrebbe anche un uomo potrebbe sedurre perché ha un obiettivo. Magari vuole la villa al mare, non lo so, vuole uno stile di vita diverso. Anche molte donne, diciamo, sono machiavelliche, tra virgolette. Machiavelliche vuol dire utilizzare degli scopi per manipolare l'altra persona. Diciamo che la donna, come dire, morta di fame, la ragazzotta morta di fame, ma bella, che cerca di sfruttare la sua bellezza per conquistare magari il uomo maturo, per avere, diciamo, per avere una... come dire, uno stile di vita migliore, di fatto, se vogliamo dire, può essere machiavellica, ma di fatto ti propone uno scambio, no? È uno scambio che è la sua bellezza e contro uno stile di vita più agiato. E quello è spesso il discorso. Ecco, ma gli uomini, questo fondamentalmente lo capiscono, perché io credo che nessun uomo, almeno, sia così stupido da credere che la bella ragazza, magari di 25 anni, va con l'uomo di 60 o 65, anche per amore, per sentimenti, no? Lo fa soltanto, ovviamente, per tornaconte. Questa manipolazione potremmo definire questa donna machiavellica, no? Se vogliamo. Però, diciamo che, tutto sommato, alla fine è uno scambio. Basta che le persone ne siano consapevoli. Ma, diciamo che, spesso, invece, le donne, ad esempio, non sono consapevoli di questo. La donna, quando aggancia il toy boy, pensa che il toy boy vada con lei per amore. La donna matura, che aggancia il toy boy, pensa che il toy boy vada con lei per amore. Non si rende conto che anche il toy boy, probabilmente, machiavellico, ha un obiettivo, ha uno scopo, diciamo. Lo scopo può essere proprio lo scopo, oppure può essere uno scopo diverso, quello magari, e questo se sei benestante, se sei una stracciona, diciamo che il toy boy ha soltanto uno di scopo, non un altro. E poi la terza, il terzo elemento, diciamo così, della triedo scura, è l'elemento peggiore di tutti, veramente pericoloso, che è lo psicopatico. Lo psicopatico ha comportamenti antisociali, ha una impulsività distruttiva, lo psicopatico è veramente una persona, da un certo punto di vista, da tenere molto, molto alla larga, perché lo psicopatico, come dire, ti può danneggiare, danneggiare veramente tanto. Lo psicopatico, bisogna stare veramente molto attenti. e come si manifesta questa triedo scura? Intanto perché seduce? Uno dice, ma perché molte persone, molte donne, specialmente, si fanno sedurre da narcisisti, machiavelli e psicopatici? Ebbè, perché danno emozioni, diciamo così, sono persone che danno emozioni, danno emozioni perché ti manipolano, danno l'emozione del male, ma il male ha il suo fascino, il male ha il suo fascino perché il fascino del male consiste nel, diciamo, nelle emozioni che vengono erogate e siccome la nostra sfera emozionale non disdegna, diciamo, sia emozioni positive sia emozioni negative, diciamo che la nostra parte emotiva spesso si innamora proprio del bad boy. D'altra parte, e questo molte donne lo sanno, non si innamorano mai del bravo ragazzo sotto casa. Perché del bravo ragazzo sotto casa non ti innamori? Quello, e questo è anche l'assurdo, bisognerebbe rivalutare i bravi ragazzi sotto casa, perché non ti innamori mai di quello. Ti vai a innamorare dello stronzo, sembra che fai una selezione a livello nazionale o talvolta anche internazionale. Tutti i bravi ragazzi li scarti e vai a innamorarti proprio degli stronzi selezionati a livello internazionale di quelli dei bastardi selezionati, dei narcisisti, dei machiavellici, degli psicopatici. E lo psicopatico ha comunque anche comportamenti talvolta antisociali, quindi ha dei comportamenti estremamente negativi. E come si manifesta quindi questa triadoscura? Beh, la triadoscura si manifesta attraverso la manipolazione. Le persone che fanno parte della triadoscura tendono fortemente a essere manipolativi, manipolano. La manipolazione può essere di origine compulsiva, cioè sfruttano la tua paura dell'abbandono, sfruttano la tua paura del rifiuto per farti fare delle cose che non vorresti fare. Ma poi ci sono anche diciamo invece la manipolazione coercitiva, quello che talvolta diventa proprio un ricatto proprio, un ricatto logico, un ricatto talvolta anche analogico. Ci sono proprio forme di ricatto che si manifestano anche in modo pesante da questo punto di vista. E poi anche un altro modo di, diciamo, che utilizzano la triadoscura è strumentalizzare altre persone, cioè cercano di strumentalizzare altre persone, trovano sempre le scimmie volanti, altre persone che possono dargli ragione. Usano l'inganno, l'inganno e la menzogna. Beh, diciamo che sia i narcisisti, sia i machiavellici e sia dei psicopatici, diciamo che una delle caratteristiche fondamentali che hanno è una menzogna costante, praticamente mentono e attraverso la menzogna, attraverso la menzogna, diciamo, riescono anche a creare una realtà, una realtà che potrebbe sembrare apparentemente positiva ma che poi si manifesterà come un inferno, cioè vanno a creare una realtà alternativa. E poi non hanno empatia, cioè non entrano in contatto emotivo con l'altra persona, non hanno una morale, non hanno rimorso, sono persone egocentriche, sono persone che tendono ad essere dominanti e vogliono il controllo della situazione. Ecco, quindi se vai a scoprire, diciamo, una situazione di questo genere otterrai, otterrai, diciamo, delle situazioni importanti. Intanto un saluto a Martina, ma questo è fondamentale. Quindi quello che voglio dire è nel momento in cui riconosci delle persone che fanno parte della triade oscura, cioè narcisiste, e ho detto soprattutto egoistico, e mancanza di empatia, mancanza reale di empatia, però mancanza di empatia soltanto reale, perché il narcisista estrionico, ad esempio, come dicevo, la manifesta. Poi manipolazione, sfruttamento, oppure comportamenti antisociali, impulsività distruttiva, vuol dire che e che appunto si manifesta attraverso manipolazione, non morale, non rimorso, egocentrismo, dominanza, voler controllare, è a che fare con una persona appartenente alla triade oscura, quindi chiudi la relazione e troti qualcos'altro, ti suggerisco veramente di chiudere immediatamente e troti qualcos'altro, è soltanto la piena consapevolezza che ti porta a evitare di essere sedotto e poi sedotto e poi doverti leccare le ferite per quello che hai vissuto e mai coinvolgersi con queste tipologie di persone. Comunque, per saperne di più, seguimi sul canale YouTube Massimo Terramasco, troverai tantissimi video, più di 23.000, ti iscrivi al canale, potrai ottenere dei grandi benefici. Ciao a tutti!